oggi leggiamo insieme Gaia e la pietra di fuoco questo è un libro molto particolare perché ha due finali andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta in mezzo al mare c'era una piccola isola che da migliaia di anni resisteva ai venti e alle tempeste che flagellavano le sue coste qui stavano di casa Gaia e gli altri topolini di roccia l'isola con la sua imponente montagna significava tutto per i topini era la loro casa li proteggeva e li nutriva d'estate Gaia e i suoi amici passavano quasi tutta la giornata a mangiucchiare e quando erano pasciuti andavano a raccogliere dei sassi lisci e piatti e giocavano a farli rimbalzare sull'acqua la sera i topolini si sdraiavano sulla roccia scaldata dal sole guardavano le stelle e si raccontavano delle storie godendosi le tiepide notti estive se la temperatura lo permetteva si fermavano anche a dormire all'aperto in autunni in autunno certi venti forti annunciavano l'arrivo della brutta stagione allora i topolini stavano tutto il giorno chiusi nelle loro tane buie perché fuori la furia del vento li avrebbe come niente spazzati via se ne stavano accoccolati tutte tremanti nelle loro buche umide a sognare il sole e il tepore della bella stagione dopo una di queste brutte giornate di vento e di pioggia Gaia uscì affamata dalla sua tana per cercare qualcosa da mangiare frugava e annusava di qua e di là infilando curiosa il suo musetto in ogni angolo quando all'improvviso in un profondo crepaccio scoprì qualcosa che luccicava con un bastone la topolina tentò a lungo di smuovere quella strana cosa finché non riuscì con cautela a tirarla su era una pietra luccicante come il sole calda come il fuoco Gaia svelta svelta portò il suo tesoro con sé nella sua tana più si faceva buio e più la strana pietra luccicava e oltretutto mandava un piacevole tepore come se il sole di primavera fosse entrato nella tana umida e fredda con un senso di benessere Gaia si accovacciò in un angolo accanto alla pietra naturalmente quella luce attirò anche gli altri topolini che incuriositi si ritrovarono ben presto tutti riuniti intorno alla tana di Gaia i topolini assediarono Gaia di domande avrebbero voluto possedere anche loro una pietra luminosa ma a quel punto l'anziano e saggio Baldassarre presa la parola non dimenticate che le pietre di fuoco appartengono alla montagna disse se le prendiamo dobbiamo offrire qualcosa in cambio e ora abbiamo due possibilità possiamo scegliere di far finire bene la storia oppure male allora vediamo prima se finisce male la storia cosa succede i topolini però non diedero retta a Baldassarre si avviarono verso il crepaccio e trovarono una stretta galleria che scendeva dentro la montagna cominciarono a scavare per allargare la galleria e armati di sassi a guzzi staccavano man mano che andavano avanti le pietre di fuoco più scendevano in profondità più le magiche pietre erano numerose tanto che a un certo punto lasciarono perdere le piccole per portare via solo quelle più grandi i tropi trasportarono le pietre di fuoco nelle loro tane e intanto si guardavano l'un l'altro in canesco per paura che la pietra del vicino fosse più grande e più bella della propria l'invidia e il sospetto si erano ormai impadroniti dei loro cuori tanto che non riuscivano nemmeno a godersi la luce e il tepore delle loro tane a gaia tutto questo non piaceva per niente pensava e ripensava le parole del vecchio Baldassarre chiedendosi cosa regalare alla montagna in cambio delle pietre di fuoco ad un certo punto a uno dei topi venne in mente che in fondo una sola pietra di fuoco non era abbastanza poteva andarne a prendere molte di più e sul far della sera tornò di nascosto nella galleria e lavorò tutta la notte per ammassare pietre di fuoco le stivò poi dentro e intorno alla sua tana tanto che la loro luce si vedeva da lontano e pieno d'orgoglio si mise a gridare 420 guardate guardate la mia tana è la più bella di tutte una casa come la mia non ce l'ha nessuno il giorno seguente la montagna sembrava un formicaio i topi scavarono sempre più in profondità e ben presto nel ventre della terra si aprirono infinite gallerie enormi caverne vuote accecati dall'avidità i topi raspavano accanitamente in tutte le direzioni e portavano fuori senza posa sempre più pietre di fuoco le pareti della montagna divennero sempre più fragili e sottili finché un brutto giorno capitò quel che doveva capitare crollò tutto un immenso fracasso grandi blocchi di pietra ostruirono la galleria e le onde fecero il resto spazzando con violenza quel che restava dell'isola nient'altro che un mucchio di sassi dal disastro si salvò un'unica tana dentro se ne stavano gaia e baldassarre accovacciati e tremanti in un angolo e pensare che le pietre luminose avrebbero potuto risolvere tutti i nostri problemi sussurrò baldassarre avvilito gaia allora prese un sasso e cominciò a decorarlo per regalarlo all'isola in cambio della pietra di fuoco ma vediamo come com'è il finale buono positivo andiamo a vedere baldassarre ha ragione pensò gaia tra sé cosa poteva offrire alla montagna per ringraziarla gaia rifletteva poi salto su e disse ecco ho trovato la montagna mi ha regalato una bellissima pietra dunque io le donerò una pietra altrettanto bella e partì in cerca di un sasso più o meno della stessa misura della sua pietra di fuoco appena trovò un ciotolo della grandezza giusta si sedette e usando un frammento appuntito di roccia cominciò a batterlo e a scolpirlo gli altri topolini incuriositi stavano tutti intorno a guardare alla fine gaia era stanca e sudata ma il ciotolo era diventato molto grazioso con un bel sole inciso sopra gli amici erano entusiasti accompagnarono gaia fino al crepaccio nel quale aveva trovato la pietra luminosa e al suo posto sistemarono il sasso decorato poi anche gli altri topolini cominciarono a cercare e accanto al crepaccio trovarono una galleria che scendeva in profondità nel cuore della montagna vi si infilarono e via via che procedevano le pietre di fuoco si facevano più numerose ogni topolino se ne prese una cercando di tenersi bene a mente il luogo da dove la staccava per poterla poi sostituire con un sasso decorato usando ogni precauzione i topolini portarono a casa i loro tesori poi andarono in cerca dei sassi giusti da offrire alla montagna e cominciarono a decorarli con massima cura disegnarono incisero e li abbellirono con fiori foglie piante e radici ne vennero fuori delle piccole opere d'arte che i topolini portarono dove avevano preso le pietre di fuoco soddisfatti i topolini rientrarono la sera nelle loro tane calde e ben illuminate vento e tempeste ormai non li preoccupavano più spesso si incontrava in una caverna per raccontarsi delle storie proprio come facevano d'estate e così le lunghe fredde sere d'inverno parevano più corte da allora i topolini organizzano ogni anno una grande festa si danno appuntamento nella tana di baldassarre ballano cantano e scolpiscono pietre e quando si fa buio vanno in processione intorno alla montagna portando ciascuno la sua pietra di fuoco per ringraziare il cielo di poter vivere su un'isola così bella a me questa sembra proprio una bella storia e dovremmo raccontarla ai nostri genitori e a tutti gli adulti perché ci può insegnare qualcosa per il nostro caro mondo